Angela Schiavi è il nuovo sindaco di Onore, correva da sola contro il quorum, come si dice in questi casi, quorum che ha raggiunto grosso modo la percentuale del 62%. Cominciamo dal commentare questo dato. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie a chi ha votato, grazie a chi ci ha dato fiducia. Il 62% del quorum non è tantissimo, mi dicono che Onore non è neanche poco, nel senso che sono tante le persone che possono votare che in realtà sono all'estero, all'estero si intende Australia, Canada, quindi luoghi assolutamente che non concedono di tornare in patria per poter votare. Non è tantissimo, nel senso che comunque sulla percentuale mettersi la mano sul cuore e spendere 5 minuti per andare a votare e decidere chi e cosa si vuole per il proprio paese è importante, quindi è sicuramente, sarebbe una scelta che tutti dovremmo fare con coscienza. Siamo in ogni caso contenti perché, ripeto, ci hanno votato, ci hanno dato il loro voto e quindi siamo qui e siamo attivi per poter iniziare a lavorare, insomma, che era quello poi che si intendeva fare. Appunto, adesso quali sono i primi problemi che affronterete? Allora, i primi problemi riguardano sicuramente l'aspetto delle tasse, in quanto dovremo approvare un bilancio, dovremo mettere mano al discorso appunto della tassazione e vedremo come muoverci. Ci chiariranno tutti i dati per cui fare le scelte migliori, in questo senso. Superato questo primo scoglio, non indifferente, sicuramente partiremo con quello che è l'obiettivo, quindi di dare un volto giovane al paese, di creare delle dinamiche, degli eventi. Ci aspetta l'estate, per cui siamo sotto questo aspetto un attimo in ritardo, però cercheremo di prendere in considerazione tutte le iniziative e dare manforte in questo senso. Successivamente ci sarà la scuola, l'aspetto del sociale, le famiglie, intendo successivamente perché le scadenze poi vanno verso settembre, quindi i tempi sono quelli. Abbiamo già un po' gli indirizzi nella mente e cercheremo di attivarli e di concretizzarli in questo senso. Lavoreremo fin da subito con l'Unione dei Comuni, quindi ci sarà subito un primo impatto, cercheremo di collaborare e vedremo poi gli eventi come andranno, quindi chiaramente l'indirizzo che si prenderà in questo senso, anche rispetto agli altri comuni, alle nuove amministrazioni e via dicendo.